quello di cui parliamo oggi è il documento più importante prodotto dalla parte politica e dalla parte amministrativa dell'ente comune. Un prezioso test che consente una valutazione attendibile dell'operato di entrambe. Nonostante si siano fatti grossi passi in avanti rispetto al passato, in merito alla semplificazione e la trasparenza in generale, alcune parti ancora troppo tecniche non consentono una facilità di lettura a gran parte della popolazione. Noi come forza politica ci stiamo comunque impegnando per porvi rimedio a tale carenza. Ecco, il documento unico di programmazione è talmente importante che sono sicuro se i cittadini lo conoscessero lo scenario politico sarebbe totalmente diverso. Se ogni cittadino prima di addentrarsi all'interno della cabina elettorale si addentrasse all'interno anche di una semplice sintesi del DUP, chissà di quanti politici non ci sarebbe più traccia. Comprendiamo l'obbligo di produrre determinati documenti, ma non vi nascondiamo che ci fa specie l'insistenza con la quale si continua ad ingannare l'intera comunità anche a fine mandato. Considerato che il DUP, come scritto in premessa, costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e rappresenta lo strumento di guida strategica ed operativa dell'ente, considerato che questo elaborato si suddivide in due sezioni denominate sezione strategica e sezione operativa. Allora, se come si evince dal confronto del DUP 2019-2021 con il DUP 2021-2023 non ci sono differenze se non quelle dettate dalla contingenza, significa che si confermano strategie e azioni attuative e operative di fatto già conosciute e che sappiamo benissimo quanto siano state efficaci, si fa per dire, non avendo portato alcun miglioramento della qualità della vita della nostra comunità, per non parlare della crescita del nostro territorio inesistente, dal punto di vista culturale, economico, sociale, ecologico, urbanistico, in termini di sicurezza, inclusività. Allora, in base alla situazione economico-finanziare del territorio, alle caratteristiche della popolazione in termini di età, istruzione, al patrimonio disponibile alle risorse umane, all'andamento delle entrate delle spese, si sviluppano le strategie dell'ente, strategie indicate in dettaglio negli obiettivi delle varie missioni. Ecco, sinceramente noi ci saremmo aspettati nella parte strategica un riferimento più preciso allo scenario legato alle conseguenze della pandemia che stiamo vivendo, ovvero alle difficoltà a cui ci troveremo davanti perché, attenzione, il peggio non è ancora passato. Mi dispiace dirlo, ma non è ancora passato.